hello bell guys benvenuti in questo nuovo video e dopo tipo secoli e si può dire forse la prima volta porto un duello in ria dato che mi è venuto a trovare il mio buon amico utende shogun volutamente detto cosa lì? prego prego un po' lei può salutare la cara salve 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 a tutti poi porteremo diciamo la profile anche del suo mazzo io sto giocando un hopeless dragon dark dragons che trovate sempre la lista sul canale disponibile mentre lui sto usando un hero diva se non erro ah l'applicazione dai tu andiamo intanto mi preparo le cinque parte qui ok ragazzi possiamo mettere così così vedrò anche dalla regia un attimo solo vedete se si vede così facciamo olle così roll 6 6 nooo perfetto non comincio io ok comunque buona solito ragazzi se vi piacciono i contenuti edison retroformat cut got stiamo vedendo anche di portarvi sul canale insieme al canale anche unboxing coreano che trovate sempre qui insomma quindi vedete voi abbiamo un po' di video in merito si siano tutto questo torno un po' a concentrarmi sulla partita mi rimazzano va bene va bene va bene va bene va bene va bene effetto di priorità allora tipo un animale no ma la cimitero ecco colore normale ottica effetto vabbè no c'ha zero quindi se ne botto messo in roba varia no ok 4 vabbè picchiata a millenove Questa è il mio due suoi interviene. Questa è il mio due. vai ho iniziato a registrare il dubbio il dubbio il dubbio il dubbio il dubbio ecco come effetto giusto all'inizio non è che viene a piovere dopo aver fatto questa cosa? no incredibile riesce a fare la sincronoddiva dopo dopo tanto tempo che presto attacco sì passo no ecco io ho priorità non ci vuole effetto per due parti in priorità ecco l'effetto effetto in priorità va bene va bene va bene va bene ok è anche fatto no? se tieni la carta magia ho commesso di valore qualche scuola da 5 vedo va bene rimosso va bene la carta magna si carte in mano? due atti il cartoneggio lì ecco è proprio lui, ha fretto un po' 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 tibli non il ok ma cacco va bene io ho chiesto qua passo vai Eroco Sperate che potevo fare prima, non ci ho pensato, ho portato la giocata veloce, potevo giocaa come si chiama, evocare con il fantasma del cazzo, cioè il creatore oscuro e il fantasma del cazzo, non ci ho pensato, vabbè, è un errore, è un errore abbastanza fatale, molto fatale, molto, però ci sta, dopo si vanno un po' arrugginiti, dopo un pochettino il normale e rive, rivea, rivea, rivea e rivea Eroco buongiorno E' preparato? Sì, sì. Faccio le picchie abbastanza, voglio fare così qui. Hai pure questi due. Ah, cavolo. Firmare mi hai detto. Facciamo così. E così. Facciamo attrette. Vado prima. Va bene. Eh sì, se avessi fatto l'aggiunta da prima, molto meglio. Vado ancora e la piverna. Però no. Tu avevi fatto quell'allarme. Giusto. Forse non ho fatto io proprio la validazione X. Ho la sesta. E un mille latte. E un mille latte. Sì. Vai. Qued. Grazie. Grazie. Sai che era quella che ha dato lì? Sì. Ecco. Affetto. Sì. Dove vado? Ok. Sì. Mi riprendo. Vado? Beh. Porca troia che palle. Complicativo. Complicativo perché sono un po' la mano un po' giallina per certe cose quindi ci devo raggiungere un po'. Beh. 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 Ciò c'ho la mano più gialla del pandemonio umano. Beh. 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 bel dilemma eh molto sono scemo parte 4 meno male era parte 1 è un buco l'effetto che fa? si mette in diviso c'è un 1.6 una carta magia il prossimo promosso io l'ho fatto dal mazzo effetto dello zumbino ok ok si su di lui pesca e i canno 2 a shit ho una mano grosse gg posso fare questa mano gg complimenti ha un grande è incredibile quindi vuoi vedere i video sono bravo un bacio di video è sempre così importante vedere il cavolo nel frigo giusto il prossimo match il prossimo è il prossimo il prossimo è il prossimo è